Dove siamo di bello oggi? A Lugia! Perché ho dito a bassa voce? Siamo qui, adesso entriamo! Sape to russo! Sape to russo, ci siamo! Stiamo entrando! Nami, un palcoscenico importante, eh! Pronte per entrare, eh? Ci siamo, ci siamo! Entriamo! Wow! Quanti colori! Vai, vai, cammina, cammina! Quanti palloni! Anche a terra, guarda! Gira la testa! Guarda, siamo in alto! Ciao! Guarda, sei molto profondo, guarda! Dove andiamo? Guarda che palloni enormi! È gigante! Un percorso tutto russo! Quante mucine! Guardate quanti palloni! Siete pronte, eh? Siete pronte, eh? Vai, Dappi, vai, vai Genis, vai! A voi l'onore di scendere! Vai, pronte? mamma si è incastrata vai che ce la facciamo guarda che bello le luci cielo nuvoloso wow che sta succedendo ragazzi oddio mamma ho toccato il fondo guarda si eccola trovata oddio james mi sta ammazzando mamma ho toccato il fondo guarda che bullo le luci guarda che bullo le luci guarda che bullo le luci ma prendete le bolle guarda oh le altalene guarda che belle ma volete andare sulle altalene vai vai che belli wow wow bellissime questa è una parte molto molto divertente andiamo a vedere andiamo wow sembrano infinite guarda guardate quante palline andiamo andiamo a vedere cosa c'è più avanti andiamo qui c'è una persona che è svenuta un pallone svenuto no Duffy non si fa no non si fa ha capito tutto della spiegazione si attaccano vedi a questi magneti che ci sono qua vai Nami proviamo ad attaccarlo no non si attacca così bravo ma sopra non ci sei riuscito che hai fatto bravo ci sei riuscito wow che bello questo qua ah queste le devi pedalare se pedali si muovono proviamo proviamo anche noi vai Janice pedala pedala vai forte 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 che si apre wow guarda vai Janice vai guarda oh si è aperto tutto ancora 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 grande vediamo Daphne vediamo Daphne dai Daphne ce la fai guarda si sta prendo vai vai Daphne vai pedala pedala bravissima bravissima ancora ancora vai ce l'hai fatta bravissima wow guarda bravissima ecco i barba papà che belli wow è vero è vero si ma questi si possono anche tirare si che belli si si vai Daphne vai guarda ritorna sempre in piedi sempre diritto guarda c'è il fumo 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 sta fumando tutto parte visore andiamo a vedere col visore cosa succede qui siete pronti guarda uno specchio uno specchio che belle queste stanze bellissime un'altra stanza bellissima vai andiamo andiamo che bello quante stanze bellissime che belle che belle vai Daphne fammi sentire qualcosa fammi sentire qualcosa fammi sentire qualcosa brava vai gente fammi ascoltare tu qualcosa vai che sai suonare giornata musicale vai vai sedetevi sedetevi fatemi ascoltare qualcosa anche qua non ci sono le pacchette non fa niente si parte state volando guarda il numero come camminano guarda Genis dove state andando dove volate a Parigi che belli questi palloncini andiamo e abbiamo concluso con il pio d'occhio come sono? si te la facciamo non c'è una zirullata va bene Geni ti puoi arrampicare? la facciamo? no la facciamo vai salite sulla nuvola salite sulla nuvola vai Daphne vai ce la fai? vai bravissima sotto l'arcobaleno enorme vai 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 sei fatta bravissima e anche quest'ultima avventura sera fatta ci vediamo in un nuovo video qui ti vediamo in un nuovo video iscriviti sei caduta booh ciao 早落 prima Grazie a tutti.